ciao a tutti vi faccio vedere degli altri delle altre cose su halloween in questo caso la bigiotteria allora vi faccio vedere innanzitutto questa della klerz vedete questa è la collanina allora la marca klerz viene venduta in pochi negozi tra cui toys center questa costa 9 e 99 poi l'unico che ho preso adesso di bijou brigitte questo qua l'ultimo questi dovrebbero essere vampiretti la zucca e il fantasma toy 60 perché questi la li ho presi ho preso questi questo è il ragno questo è il gatto nero questo è il tischio si sono impappinati due tischi poi questo non ho capito che cos'è questo è il piccolo fantasmino questi sono i tipi questo è la zucca il cappello della strega e questo è la tela dell'oragno e questi costano 14,99 c'è scritto glow in the dark vediamo se è vero questo diciamo che quello che vi ho fatto vedere prima è l'unico poi 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 sempre della klerz c'è quest'altro qua i ragnetti questo che non ho capito che cacchio è le zucche il fantasma e il gatto nero e il pipistrello poi 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 sempre della klerz la zucca il gatto nero e il teschio e questi costano 9,99 10 euro sempre della klerz abbiamo i fantasmini questi la terra del ragno e i pipistrelli anche questo costano 9,99 e questi dovrebbero costare leggermente di meno perché sono più piccoli questi costano 9,99 che vi ho fatto vedere prima sono molto più sono un pochino più grandi e questi pure costano 9,99 quindi riesco a capire poi abbiamo queste zucche qua che costano 5,99 in pratica questo costa una barca di soldi mentre 3 costano 9,99 10 euro poi questo che non sembra halloween allora vedete il fantasmino la signorina fantasmino con la zucca molto carino e questi costano 6,99 questi però sono diciamo quelle più grandi e questo è tutto per la bigiotteria halloween ciao ciao alla prossima ciao